Differenti latitudini e costumi, ma le radici sono le stesse, dall'Emilia lo Yucatan, Cesarine e Cosineras, le cuoche della tradizione d'Italia e Messico, lo hanno dimostrato con i loro piatti a Expo, un incontro organizzato da Coop, Fico Italy World e Conservatorio della Cultura Gastronomica Messicana. La cucina tradizionale messicana e quella mediterranea sono state dichiarate patrimonio culturale dell'umanità dall'UNESCO, patrimonio custodito e tramandato proprio dalle cuoche. L'accoglienza è un altro ingrediente fondamentale, le Cesarine, rete fondata dall'antropologa e sociologa Egeria Di Nallo, diffondono la cultura della cucina domestica aprendo le loro case. Le Cesarine, che sono questa organizzazione di signore, che su tutto il territorio nazionale cucina a casa propria e a casa propria riceve i soci dell'associazione, che vengono da tutto il mondo, appunto c'è questo discorso di accoglienza che abbraccia, dà la possibilità di abbracciare il mondo. La catena che porta dal solco al tavolo è forse la più importante dal punto di vista non solo culturale, ma anche sociale e economico. Io credo che con Italia voi l'avete capito benissimo. Dunque noi volevamo dire prima di tutto al popolo nostro, alla nostra gente, fate attenzione perché quel patrimonio si può anche perdere, se non si cura in modo adeguato. Tradizione, sostenibilità e accessibilità del cibo sono i messaggi lanciati da Expo che presto passerà al testimone a Fico Italy World, la fabbrica italiana contadina di Bologna. Lo sforzo che stiamo facendo è quello proprio di rendere ogni giorno vivo la storia di Expo per portarla in Fico, quindi ogni giorno cerchiamo di rappresentare nel legame con gli altri paesi la nostra grande arte e diversità e nel mondo non solo della filiera agroalimentare, ma proprio nel mondo della storia e delle caratteristiche del nostro modo di essere.